Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi mercoledì 15 gennaio 2020 sul canale 17 apriamo la giornata con l'informazione con la lettura dei giornali delle notizie più importanti dai quotidiani Carlino e Corriere che tra poco sfoglieremo. Prima diamo uno sguardo al calendario, oggi è San Mauro innanzitutto e poi Sant'Arnold insieme ai tanti altri santi e beati. Il sole sorgerà alle 7.38 e tramonterà alle 16.56, c'è poco da dire anche oggi, il tempo cambierà soltanto domenica lunedì quando arriverà la pioggia ma intanto godiamoci ancora queste giornate che comunque durante le ore centrali del giorno saranno ancora soleggiate con temperature che anche oggi saranno in lieve aumento, attenzione però in queste primissime ore alle foschie o locali banchi di nebbia soprattutto nei fondovalle. Ci sono anche delle gelate in particolare nel settore centro meridionale della regione perché al nord invece nel pesarese abbiamo temperature che si aggirano intorno ai 5-6 gradi quindi le gelate non ci sono almeno questa mattina. Per domani giovedì 16 gennaio protezione civile delle Marche, prevede ancora cielo sereno poco nuvoloso con gelate notturne, venerdì 17 invece il cielo splenderà sereno su tutta la costa adriatica anche nell'entroterra, solo qualche gelata nei fondovalle, foschie o banchi di nebbia locali nelle ore più fredde della giornata. Poi come dicevo il peggioramento del tempo sarà previsto nella giornata di domenica lunedì quando pioverà sulla regione Marche ed è un'acqua benedetta perché come dicevamo ieri mattina insomma c'è bisogno di acqua, c'è bisogno di neve per le riserve naturali. Andiamo adesso a leggere i giornali. Il Corriere Adriatico apre con il San Benedetto, l'ex psichiatrico a Pesero, questo stabile un po' così infatiscente che potrebbe andare all'asta. L'Asur lo mette in vendita per 8 milioni, i tecnici sono al lavoro per definire i dettagli, ancora qualche settimana per il bando. A centro pagina invece la cronaca con il ritrovamento di un anziano di 80 anni scomparso il giorno prima, la sera prima da casa, lo hanno cercato con una task force imponente per oltre 15 ore, era uscito lunedì sera senza fare ritorno ma poi l'hanno trovato due volontari del CB Club Mattei della Protezione Civile di Fano sugli scogli, era Franco Cecarelli, scusate, 80 anni ed era noto per i suoi indovinelli, scrive il Corriere questa mattina. In prima pagina anche di taglio basso la notizia dei ladri che hanno visitato due appartamenti, in uno in particolare ha avuto una faccia a faccia con i ladri, una donna che impaurita è corsa poi a chiedere aiuto, si è rifugiata dalla vicina di casa ma anche lei era appena stata derubata. La pagina del resto del Carlino, anche qui in apertura l'assalto dei ladri, torna e trova i banditi in casa, un incubo, ecco la fotografia della proprietaria di casa che indica appunto la zona dove ha incontrato i ladri. Agguato invece nella casa d'accoglienza, in sette rompono con le armi in una comunità per minorenni a Talacchio, c'è stata una maxirisse e anche degli accoltellati. Poi un'intervista a Cornelio Brandini che è di casa a Fano, è stato storico segretario di Bettino Craxi, con lui dimenticato come lui dimenticato da tutti. E poi la crona che ha scompare e trovato morto sugli scogli anni e poi la notizia che vedremo tra poco dentro le pagine interne. Travolte uccise Renelli, l'autotrasportatore di 47 anni che ha travolto le due ragazze, le due donne di Colli al Metauro, guidava sotto l'effetto della droga. Bolletta da record, 3.000 euro per l'acqua, un caso registrato a Pesaro. Tragedia sulla strada, il giorno dopo l'uccisione di un uomo sulle strisce pedonali davanti all'ospedale di Torrette di Ancona. Si parla di questo punto molto pericoloso che più volte è stato teatro di incidenti. Un attraversamento folle si tratta e titola così il giornale di una roulette russa. Mentre il titolo dell'edizione di Ancona è sull'investitore drogato, così viene definito, che ha ucciso queste due donne di Colli al Metauro, camionista che ha falciato le due giovani a Senigallia, oltre che all'alcol è risultato positivo anche ai cannabinoidi. Poi, cittadino onorario, invece, l'edizione di Macerata, trei omaggia Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. La pagina di Fanno del Corriere, pensionato trovato morto sugli scogli, una task force lo ha cercato per 15 ore, Franco Ceccarelli, 80 anni, era uscito dalla sua abitazione lunedì sera, subito l'allarme dato dai familiari. Amava il canto, il gioco delle bocce, creava indovinelli, era una persona conosciuta in città e apprezzata per il suo carattere aperto e stroverso. Un uomo dalla forte simpatia, gradevole e fantasioso, aveva passioni forti come quella per il canto, essendo dotato di una bella voce, ma anche per le bocce di cui era esperto giocatore. Ma il suo grande amore era comporre indovinelli e nel tempo ne aveva creati tanti. Non a caso esiste una sua piccola pubblicazione che ne raccoglie i più significativi, anche per questa sua forte capacità empatica, la tragica fine sugli scogli ha commosso e dolorato l'intera comunità. Questo è il Carlino, trovato morto sugli scogli, il titolo, un anziano malato soffriva di Alzheimer, era scomparso lunedì sera, familiari e forze dell'ordine l'avevano cercato tutta la notte, Polizia, Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Capitineria Municipale e Protezione Civile. Ha passato la notte al gelo, seminudo, con una temperatura vicina allo zero. Nella fotografia non solo la foto di Franco Ceccarelli proprio in questi ultimi giorni, ma il luogo anche in cui è stato trovato appunto all'ora di pranzo, tra gli scogli del molo di Ponente. Poi la notizia buona, devo dire, e questo ci fa piacere, del miglioramento del figlio di Oretta Ciancamella, che in tanti conoscono perché si è impegnata anche in politica negli anni scorsi. Ebbene il figlio, di cui si è parlato nel giornale, in particolare sul resto del Carlino, sta migliorando, migliora e Oretta Ciancamella ringrazia tutti, sta dando buoni risultati, questa maratona di solidarietà per questo ragazzo che ha 26 anni e che un anno fa si è svegliato, paralizzato alle gambe. Le medicine certamente possono curare le malattie, ma le parole incoraggianti di un buon medico danno la forza di combattere dall'interno. E dopo tanti mesi di lacrime e sacrifici affrontati in Canada, è tornata a sorridere in Italia Oretta Ciancamella. Perché in Italia? Perché ieri pomeriggio Riccardo è stato operato nel reparto di neurochirurgia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, è ancora nel reparto intensivo per i controlli di routine, però sta migliorando, ha riacquistato la sensibilità completa alle gambe, la mobilità delle dita e dei piedi. Dopo l'operazione di lunedì Riccardo ha recuperato anche la sensazione del caldo e del freddo sulla pelle delle gambe, insomma sta migliorando e quindi si fa tutti quanti il tifo per lui. Investitore positivo alla droga, siamo sulle pagine del Carlino di Ancona. Travolte ed uccise davanti al Megare, Nelly ora era già nei guai per l'alcol, ora la sua posizione chiaramente si aggrava e non poco. Dalle analisi il camionista di Senigallia infatti risulta aver assunto cannabinoidi. Prima di mettersi alla guida la notte della Befana la sua posizione si aggrava. L'uomo dunque al volante di questa Fiat Punto che all'alba del giorno dell'Epifania ha travolto e ucciso due donne, residente a Colli e al Metauro, guidava anche sotto l'effetto della droga. Gli esami effettuati dai biologi di un ambulatorio marchigiano hanno confermato la presenza di sostanze cannabinoidi nel sangue di Massimo Renelli, 47 anni, che adesso è agli domiciliari per duplice omicidio stradale. Il prelievo di sangue era stato effettuato successivamente al tragico episodio dove appunto hanno perso la vita Elisa Rondine e Sonia Farris, che vedete nella fotografia qui sotto, per il quale appunto lui è stato poi arrestato per omicidio. Sulla pagina invece di Fano, chiaramente anche qui c'è la notizia che riguarda questo risultato dell'esame del sangue fatto a Renelli, era sotto l'effetto della droga, nei guai già per l'abuso di alcol e risultato positivo ai cannabinoidi. Per ora non è stato possibile quantificare il dato sulla presenza di sostanze nel sangue, questo per quanto riguarda le analisi e poi sempre sulla pagina di Fano del resto del Carlino la notizia che domani ci sarà l'addio a Patrick Mencoboni, il 24enne deceduto nello schianto avvenuto a Cucurano di Fano nella notte tra sabato e domenica. I funerali avranno luogo alle 15 nella chiesa di Centinerola, il giovane, padre di un bimbo di 5 anni, aveva dato appuntamento ai suoi amici a Cucurano nel piazzale antistante il bar, a bordo della sua Fiat Punto, era quasi arrivato a destinazione, mancavano davvero pochi metri quando ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro di una casa. Ancora dal resto del Carlino, qui di taglio basso, fermata nel Canneto, qui ci scappa il morto in via Paolo Borsellino, nei pressi degli ambulatori del distretto Asur, chi attende l'autobus, praticamente questa è la fermata, è costretto a sostare semi nascosto dalla vegetazione, eccola qua, con il rischio tra l'altro che gli automobilisti prima o poi gli vadano addosso. Il popolo della famiglia, ma non solo loro, chiedono un intervento urgente, va assolutamente tagliato quel Canneto perché è pericoloso, non abbiamo bisogno di altro sangue sulle strade, quindi per favore cominciamo a prendere su serio anche queste segnalazioni e vediamo di tagliare questa vegetazione che davvero è pericolosissima. Sicurezza per, si parla di sicurezza anche sul Corriere Adriatico questa mattina, Statale 16, Flaminia, c'è stato un incontro ed è fissato questo nuovo incontro con l'ANAS dopo l'incidente mortale di domenica, quello appunto in cui è rimasto vittima il giovane di 24 anni, l'assessore Tonelli va in prefettura, c'è stato ieri un incontro, una riunione per l'ordine e la sicurezza nel quale in questo incontro si è chiesto anche un po' di risorse per queste grandi strade. A Cucurano dice l'assessore Tonelli dovremmo prendere provvedimenti e lo faremo d'accordo con i tecnici dell'ente, cioè dell'ANAS. Ci sono delle possibilità, ci sono delle ipotesi sul tavolo su come cercare di rendere più sicura quella strada, ma un po' tutta la Flaminia. Tra le varie possibilità, dissuasori, autovelox, certamente tutto quello che volete, però c'è anche quella di aumentare i controlli. Ma a questo proposito ci scontriamo con l'impossibilità, dice l'assessore, al momento di utilizzare di notte gli agenti della Polizia Locale, i quali, come è noto, cessano il lavoro e il servizio alle 20, alle 8 di sera, eccetto in estate quando invece si arriva a luna di notte. Vedremo se sarà possibile aumentare le ore di servizio. Non mancheremo comunque di utilizzare gli strumenti a nostra disposizione come gli alcohol test, i multavelox, soprattutto nelle vicinanze dei locali di ritrovo. Fano 2 è dimenticata, c'è il piano d'azione della Lega, Ser Filippi stigmatizza il degrado e i pericoli, è già pronta una mozione, mentre mezzo milione di euro serviranno per risistemare il tetto con l'abrodo del municipio di Fano. Nel capitolato è prevista anche la retinteggiatura delle pareti che si affacciano sul cortile interno. È un impegno finanziario consistente, perché si parla di un intervento di 800 mila euro per l'attuazione di un progetto che porta alla firma dell'ingegnere Fabri dei lavori pubblici. Tra l'altro è prevista, tra le tante cose, anche la collocazione di un nuovo infisso sulla porta vetrata della sala del Consiglio, che in questo momento, eccola qua, dovrebbe essere questa. Anche l'ingresso, questa è la fotografia, insomma, è poco dignitoso, francamente, insomma, non è il massimo della vita, insomma, andrebbe sistemato anche il portone d'ingresso. Saranno comunque installate all'interno un nuovo software per le votazioni, nuove postazioni microfoniche, nuovi monitor e un sistema che permetta anche di individuare chi ha la parola e le singole intenzioni di voto, oltre a scaletta di temi ed interventi. Mentre sulla tassa di soggiorno, l'assessore Sara Cucchiarini parla di questa tassa, di questa tassa di scopo, lo ricordiamo, la tassa di scopo è una tassa, in questo caso, di soggiorno che è un'imposta di scopo, quindi che viene reinvestita totalmente nel turismo. E dal primo di gennaio di quest'anno il Comune ha avvocato a sé la riscossione della tassa che prima era affidata invece all'ASET, mettendo dunque in piedi iniziative per migliorarne la gestione ed il controllo. Siamo sulla pagina della Valle del Metauro, Fossombrone, quella strada è pericolosa e se piove ci crollano i massi. È una lettera del sindaco ai residenti di San Pietro in Tambis, venga a vedere personalmente qual è la situazione. e questa è una fotografia che spiega più di mille parole com'è la strada. E guardate questi due pericolosi massi che sono finiti lì su in mezzo alla carreggiata. Oltre alla questione della strada dissestata e sempre più pericolosa c'è anche il problema della raccolta differenziata dei rifiuti. Il comitato abitanti via Monte Aguzzo, Montebianco San Piero in Tambis, zona collinare e area naturalistica affascinante, ha inviato una lettera aperta al sindaco Bonci. Inoltre per conferire rifiuti dobbiamo percorrere dai 4 ai 15 chilometri. L'altra pagina che abbiamo selezionato per la nostra segna stampa è sulla moria di negozi che c'è in tutta la regione Marche. Per uno che apre, due chiudono. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione di Federico Talè per aumentare i contributi a sostegno delle piccole e medie imprese del commercio. I numeri sono allarmanti quelli che pubblica il Carlino questa mattina. Nelle Marche 1.555 cessazioni a fronte di 798 nuove iscrizioni. Dunque il segno è meno ed è meno 757. La cronaca ancora da Pesaro con l'assalto armato nella comunità dei minori. Avevano pistola ma anche coltelli e bastoni. Un assalto armato l'altra notte da parte di una banda di 7 persone, tutti giovani albanesi, che ha fatto irruzione nella comunità per minorenni in via del piano a Talacchio cercando di fare molto male ad un ospite di 16 anni, un albanese anche lui, colpevole di qualche sgarbo probabilmente a qualcuno della banda. L'aggressione è stata violenta coinvolgendo una quindicina di persone che solo all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri ha arginato. Il 16enne preso di mira è stato accoltellato ma distrisce e se la caverà in pochi giorni. Nel giro di qualche minuto poi sono arrivati, come dicevo, i carabinieri che hanno identificato tutti gli aggressori, si sono avvicinati con un'auto, con uno scooter e hanno aggredito gli ospiti, anche loro tutti dell'Est. Dalla pagina ancora del Carlino, questa è la pagina che racconta un po' le vicende giudiziarie e quindi tutto ciò che si svolge, i processi che ci sono in corso a Pesaro, nel Tribunale di Pesaro. Allora i fatti sono per esempio in questa prima pagina del Carlino di Pesaro riguarda un egiziano, mi pare di aver letto un egiziano da qualche parte. Vabbè, comunque il titolo è 7 anni per le coltellate rivale, Borgo Santa Maria aggredì il presunto amante della moglie e ieri c'è stata la richiesta di condanna. Ha preso parola solo un attimo per prima che l'accusa facesse la sua richiesta, ha detto semplicemente chiedo scusa, 26 anni egiziano che ad aprile scorso ha colpito con due coltellate all'addome il presunto amante della moglie. Un pentimento diciamo così last minute dell'ultimo minuto che non è servito però ad alleggergli il conto. Il conto qual è? 7 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio e porto abusivo di armi ed è questa infatti la richiesta di pena perché è stata presentata ieri mattina dal pubblico Ministero Giovanni Narbone. E poi sotto fuma spinello e poi si mette alla guida, sfiora l'incidente e viene bloccato, aveva già la patente ritirata. Come vedete non serve nulla nel senso che bisogna cambiare la testa della gente, poi possiamo scrivere, fare campagne promozionali, campagne di sensibilizzazione, scrivere tutto quello che volete ma poi se la testa della gente rimane quella non c'è niente da fare. Questo ha fumato uno spinello, si è messo alla guida e ha sfiorato un incidente. Poteva scapparci il morto? Sì, poteva scapparci, per fortuna non è stato così. Un'altra, la pagina 4 dell'arresto del Carlino la dedica al problema dei furti, al problema dei ladri che continuano a entrare in casa, torna e trova i ladri in casa. Un incubo, dice questa donna, che racconta la visita dei banditi nel suo appartamento di Via Milano, hanno agito a colpo sicuro, nel mirino anche la vicina di casa. Lei e il marito hanno poi dormito in hotel perché erano spaventatissime, giustamente. Poi sono cose che difficilmente si dimenticano, hanno portato via soldi e oggetti vari a cui tenevamo e questa è la immagine di queste due persone che adesso piano piano dovranno tornare mentalmente anche alla normalità. Mentre la fotografia qui di spalla è per uno scontro che c'è stato tra due auto dove è rimasta ferita una donna incinta, una frontale in via Comandini, la polizia locale chiude la strada per circa mezz'ora. Siamo sempre a Pesaro. Dal Corriere Adriatico invece la foto è per l'omeopata Massimiliano Mecozzi, il bimbo morto per Otite, slitta la via del processo, quindi si parla di questo processo a carico di questo omeopata che è sotto accusa per la morte del piccolo Francesco Bonifazio, un bambino di Cagli morto per le conseguenze di una Otite mal curata. Sotto invece, se vogliamo un po' alleggerire anche la rassegna stampa, la notizia con tanto di fotografia di Valentino Rossi con la fidanzata Francesca Sofia Novello. La fidanzata sarà sul palco di Sanremo, ci sarà anche lei sul palco del prossimo Festival di Sanremo, Sanremo condotto da Amadeus, lei è Francesca Sofia Novello, 25 anni, modella, influencer, originaria di Arese e studentessa di giurisprudenza che farà parte del gruppo femminile a sostegno della conduzione dello showman. Siamo quasi in chiusura sulla pagina di Fano del Carlino, l'impasse del digestore che riguarda il digestore per seri si sta pensando a una strategia d'uscita, la maggioranza presenterà una mozione in cui si attesta la volontà di procedere con la realizzazione di questo impianto così da togliere il sindaco praticamente dall'imbarazzo. Il documento non specificerà il sito ma affiderà la scelta ad uno studio di fattibilità che dovrà analizzare i tre siti. Dunque una mozione di maggioranza per uscire da questo impasse del digestore, questo impianto da 60.000 tonnellate per lo smantimento dell'organico, umido e sfalci, e viste queste divergenze che sono emersa nel centro-sinistra nel dibattito di fine anno con la lista Noi Città che aveva perfino messo in dubbio di costruire l'impianto a Fano, la strada della mozione pare dunque l'unica possibile per trovare l'accordo sul digestore e dunque sarà certa in questo caso anche la firma di PD e dell'altra lista in comune. Poi casa per anziani, andiamo a Piobbico velocemente per parlarvi di questa casa per anziani e malati i cui lavori di realizzazione sono partiti, parla Vandini che è presidente del consorzio, 30 soggetti privati coinvolti, un servizio importantissimo per tutto l'entroterra e questo è il rendering sulla destra, è bello questo sfondo con le montagne, siamo a Piobbico e quindi ci stanno. La residenza darà una risposta anche alla piaga dell'Alzheimer, primi ospiti nel dicembre del 2020, ora coinvolgiamo i professionisti locali. Poi a Caglia invece l'esercito dei camminatori ha un nuovo percorso lungo la via dei fossili, i residenti di Secchiano hanno ripulito un antico sentiero di 3 km vicino al fiume Bosso, usato per lavori agricoli e meta anche di ricercatori. Università, siamo a Urbino, concorso finisce diritto in procure, il professor Paolo Ercolani è ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ipotizza il falso contro la vincitrice e accusa il presidente della commissione di favoritismo. Il docente ha chiesto di dichiarare nulla la prova per ricercatore di filosofia politica, un libro attestato come pubblicato è giudicato eccellente, invece è inesistente. Furti nelle auto in sosta, sempre a Urbino, presi dopo aver visitato un taxi, nei guai due ragazzi, uno di 18 anni e l'altro di 19, sono stati arrestati dopo un raid nelle vie del centro di Urbino. Processati per direttissima, è stato disposto il divieto di dimora in città. Celebrazioni raffellesche, il programma c'è, dice Vittorio Sgarbi, io aspetto solo la nomina a prosindaco e poi sarò operativo. Vittorio Sgarbi replica così alle accuse del consigliere regionale Pier Giorgio Fabri del Movimento 5 Stelle che lo accusava di ritardo. Poi, sempre Sgarbi, ci sono contrario ad ogni forma di gemellaggio con altre città. E in città, sempre a Urbino, tragica carenza di servizi, siamo sicuri di essere pronti per il 2020, in realtà ci siamo già nel 2020, Leonardo Piccino, responsabile AST-CISL, parla di ineguatezza delle strutture e di progetti sull'accoglienza. E dice, un po' preoccupato, saremo probabilmente impreparati all'ondata di turisti che verranno qui per Raffaello. Mentre, sempre da Urbino, il presidente della Commissione ha fatto vincere la sua assistente, esposto del docente universitario Paolo Ercolani contro l'esito di una selezione per ricercatore in filosofia. Ricorso al Tare in Procura, dubbi sulla legittimità del concorso vinto dalla professoressa Rosanna Castorina. Mentre, anche qui, la cronaca rubavano nelle auto arrestati due ragazzi, segnalati dai cittadini ai carabinieri. A Mondolfo, il Consiglio dei Bambini fa il BIS, un mosaico al centro dei lavori, doppia seduta, ragazzini impegnati per realizzare il mare d'inverno. A San Costanzo, invece, è il Santo Patrono. Oggi a San Costanzo è la festa del Patrono. L'amministrazione comunale e la Proloco hanno comunicato che non si terrà il consueto, sempre molto partecipato, pranzo comunitario. La decisione è arrivata dopo la morte, la recente scomparsa, a soli 48 anni, della maestra Federica Frattesi, che ha profondamente toccato il paese. Siamo davvero ormai in chiusura. Questa è la pagina di Senigallia. Conad allo stadio, arriva il Via Libera, l'area commerciale e park nel 2022. Bianchelli, riqualificato giù il palazzetto, Mangialardi dice sarà un volano per tutto il centro storico. Sartini di Benecomune, Martin Angeli del Movimento 5 Stelle, puntano il dito sulla viabilità e parlano di un rischio caos. Sia la mobilità elettrica, invece, da Vallefoglia. La Regione ci mette i fondi, il consigliere Biancani dice a Vallefoglia, assegnati 16 mila euro di contributi. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento questa sera al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo che questo è il numero di telefono attraverso il quale potete mettervi in contatto con la nostra redazione. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito e buona giornata.